Bentornati con Fjartvd e oggi recensione del dodicesimo episodio della quarta stagione Un episodio strano, strano ma che mi è piaciuto E vediamo un po' di capire cosa è successo in questa particolare puntata Allora, finalmente abbiamo rivisto Jun e Altia che sono riusciti a sopravvivere alla tempesta grazie al blindato E in questa puntata devo dire, devo dire che ho notato un atteggiamento di Jun che sinceramente io sto odiando Perché la puntata si apre con Jun che sta guardando nella videocamera di Altia l'intervista che Altia fece appunto a Jun a inizio quarta stagione E dopo aver visto queste interviste, insomma, questa intervista, vediamo che come dice trasmettente cerca di, insomma, mandare un messaggio a Jun nella speranza che la stia ascoltando E dice queste parole Jun, mi dispiace di averti abbandonato E sinceramente, sinceramente io sto odiando questo atteggiamento di Jun che ogni volta, ogni cazzo di volta si pente di quello che ha fatto in passato Allora, si è pentita del fatto che ha lasciato morire tutta la sua ex comunità quando la figlia fu morsa e si trasformano in zombie E quindi, insomma, uccise tutti quanti e quindi si è pentita di quella volta lì Poi si è pentita del fatto che, vivendo da sola, ha quasi, diciamo, ucciso Madison, dato che non si fidava di nessuno e quindi si è pentita di come era prima Poi si è pentita di quando è stato l'accampamento di Madison e del fatto che li abbia abbandonati quando, insomma, c'è stato tutto quel padratrack con gli avvoltoi Si è pentita anche di aver abbandonato Jun in quella casa, si è pentita di aver mentito del suo nome E' sempre pentita di ogni cazzo di cosa che fa Allora, porca puttana, apri una pistola e ammazzati Perché io, sinceramente, di sentirti lamentare ogni cazzo di volta per le cose che decidi di fare, mi stai rompendole Comunque, scusate questo piccolo sfogo, ma volevo farlo da un po' di tempo E questo episodio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso Vediamo che, ad un certo punto, da questa ricetta trasmittente di Jun Si sente una voce un po' disturbata, il segnale non è molto buono E colui che le sta contattando è il fantastico Morgan Che sta cercando, poverino, di cercare qualcuno da portare con sé Dato che adesso si è messo a fare un po' il salvatore, il messia E cerca di salvare un po' tutti quelli che può E meglio ancora, magari, se sono i suoi amici E quindi riesce in qualche modo a contattare Jun Anche se purtroppo non riescono a capire entrambi con chi stiano parlando Dato che il segnale è molto debole Sfortunatamente però, ad Altia viene rubato il blindato E, come se non bastasse, inizia anche a sentirsi male Inizia ad avere la febbre alta, inizia a vomitare Insomma, si sente di merda nel momento sbagliato Nel momento più sbagliato che ci poteva essere Successivamente ancora riescono a trovare quel blindato E Altia suggerisce a Jun di andare a riprenderlo Dato che lì ci sono delle medicine che potrebbero aiutarla a stare meglio Quindi Jun va a recuperare il blindato Si scontra con l'uomo che l'aveva rubato E quasi rischia la vita Dato che quest'ultimo voleva, insomma, ucciderla Ma riesce a essere un po' più furbo di lui E quindi a sopravvivere, a mandarlo via Quindi non lo uccide Perché ormai lei ha deciso che non è più come prima Non vuole uccidere, insomma, persone così a caso E quindi riesce a riprendere il blindato Anche se purtroppo non c'è più carburante E quindi è comunque costretta a rimanerlo lì dove l'ha trovato Ma cosa ancora più grave Non c'è nessuna medicina nel blindato Anzi, Altia confessa che aveva mandato Jun a riprenderlo Solo perché è molto, ma molto legata a quel blindato Ovviamente Jun si incazza Si incazza perché stava quasi per crepare E alla fine comunque non succede nulla di grave tra le due Hanno questo piccolo battibecco Però, insomma, nulla di grave E tra l'altro Jun è anche riuscito a trovare Non so cosa cavolo sia Ma comunque qualcosa che ha fatto stare meglio Altia è che si è ripresa in una maniera incredibile Cioè è passata da così a così Stava malissimo Stava per crepare E poi alla fine si è anche ripresa Ma proprio in una maniera pazzesca Io vorrei capire che cazzo gli ha detto Jun Cioè quella è È la medicina futura È la medicina migliore del mondo Comunque, comunque Lasciamo perdere queste cose E vediamo tra l'altro Una cosa molto molto particolare Cioè che Morgan Incontra quella donna particolare Ma questo particolare Comunque incontra quella donna strana Che abbiamo visto Nella puntata scorsa E non succede niente Parlano semplicemente del fatto che Bisogna prendere il giusto necessario Dalle scatole Che si trovano in giro E basta Nura di più E tra l'altro lei dice Di non averne neanche bisogno Quindi Ma basta Cioè finisce qui Non dicono nient'altro È peccato Pensavo potesse essere un po' più interessante Questa parte qui Però si vede che non è ancora Giunto il momento Comunque Alla fine Morgan e Altia E Jun Riescono a coinciliarsi Tra l'altro Jun decide di usare la ricetta smittente Per contattare quell'uomo Che l'aveva attaccata E che aveva rubato il blindato Per Unirsi a loro Lo invita insomma Ad unirsi a loro E l'uomo risponde Risponde Positivamente Dice anche il suo nome Che si chiama Queen E quindi decide di raggiungerli Jun gli dice insomma Dove poter Poterli raggiungere E nel momento in cui Appunto Queen raggiunge il luogo Che gli aveva detto Jun Scoprono entrambi Che si trova nello stesso posto Ma non solo nello stesso posto Perché c'è un cartello Che indica la stessa via Ma non è la stessa via Anzi Queen scopre Perché è stata Cambiata insomma E' stata manomessa Per Quasi Far appunto Sembrare Che la via fosse quella E qui scopriamo che Quella donna strana Ritorna In questo momento E fa uccidere Quest'uomo Da uno zombie Che aveva Legato al guinzaglio E quindi Cosa fa Lascia quello zombie Che aveva mantenuto Finora Per prendere Quest'uomo Che si trasforma In uno zombie Come Un nuovo animale Domestico In pratica E' strano E' strano Veramente Molto molto strano Questo personaggio Io non capisco Sinceramente Quali siano le sue Intenzioni Tra l'altro Non credo che Insomma Sia da sola Penso che Avrà un gruppo Perché vive Molto tranquillamente Molto allegramente Non penso che Faccia tutto da sola Poi non so Staremo a vedere Ma comunque Molto molto strano E inquietante Come vi ho appunto detto All'inizio del video Questa Questa puntata E' strana Ma è strana Veramente Ma mi va bene così Mi va bene così Perché L'episodio Mi è piaciuto Alla fine Non è un capolavoro Non è Pazzesco Non succede niente Di particolare Però E' strano E' molto molto strano E questo Diciamo che Mi sta spingendo Insomma A continuare Perché Insomma Vogliamo capire Cosa succede Poi successivamente Vogliamo capire Chi è questa donna Vogliamo insomma Capire Dove andranno A parare i personaggi Quando si scontreranno Con lei Perché insomma Credo che Prima o poi Ci sarà insomma Uno scontro diretto Con questo personaggio E che dire Bene così Bene così Fier mi sta piacendo Sono contento Di come stiano andando Le cose E spero che Prossimamente Possa succedere Qualcosa di più interessante Anche perché Insomma Alla fine Mancano 4 episodi Per questa Quarta stagione Quindi qualcosa Di più interessante E di concreto Dovrà pur accadere Detto questo Voi come sempre Fatemi sapere nei commenti Cosa ne pensate Lasciate un bel mi piace Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale E come sempre Vi ricordo che In descrizione Trovate Il link Per unirvi Al gruppo Telegram Dove possiamo Continuare a parlare di questo E di molto altro Ragazzi vi saluto E noi ci vediamo Settimana prossima Con l'episodio 13 Di Fiat Walking Dead Quarta stagione Ciao a tutti E noi ci vediamo E noi ci vediamo E noi ci vediamo